Quali sono i criteri e qual è il metodo seguito per la realizzazione degli ospedali di comunità e per le case di comunità previsti dalla Regione Basilicata all'interno dei finanziamenti del PNRR? Lo chiede con un'interrogazione consigliare il vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese di Italia Viva. L'esponente politico richiama notizie giornalistiche secondo le quali la Giunta regionale avrebbe candidato un proprio progetto per la realizzazione di 5 ospedali di comunità e 17 case di comunità nell'ambito degli obiettivi nazionali previsti dal PNRR. La Regione Basilicata, evidenzi il consigliere, beneficerebbe di contributo ministeriale di 36 milioni di euro per un piano in cui verrebbero finanziati gli ospedali di comunità di Tinchi, Stigliano, Venosa, Maratea e Muro Lucano e 17 case di comunità, di cui 6 nel Materano e 11 in provincia di Potenza. L'esponente regionale di Italia Viva chiede al Presidente della Regione Bardi e agli assessori quali iniziative siano state messe in campo per socializzare il progetto al fine di evitare qualsiasi conflittualità tra territori che sarebbe dannosa per l'intero tessuto sociale della Basilicata.